Avvio di settimana positivo per le borse europee, in particolare per Milano, a Piazza Affari, la migliore d'Europa, il Fuzzimiba, chiuso con un deciso rialzo di oltre due punti percentuali, grazie al settore finanziario. Le banche italiane festeggiano le parole in arrivo dalla Banca Centrale Europea. In vista della vigilanza bancaria unica, almeno nella fase di controllo dello Stato di Salute dei Conti, i titoli di Stato detenuti nelle loro casse saranno considerati a rischio zero. Molto bene Banco Popolare e UbiBanca, ondata di acquisti anche su Saipem dopo le indiscrezioni su un interesse della norvegese Seedrill per le sue attività offshore e Finmeccanica che con Augusta Westland avrebbe vinto una commessa da un miliardo di euro. Tra i ribassi Svetta Terna su cui pesa l'effetto cedole, euro su dollaro in risalita sopra 1,35.